Grazie. Beh, più che doppiare direi imitare. Io ci provo. Amendola è inimitabile, era una voce importante. Infatti apparteneva a Stallone, De Niro, ai Duri. Però è una voce che mette suggezione. Anche solo quando vai al bar e dici «Potrai avere un succo alla pesca, per favore?» L'ho detto alla pesca, brutto stronzo!